La sclerosi multipla è una malattia inglese invalidante che colpisce uomini e donne soprattutto tra i 20 e i 40 anni. In Italia i malati di sclerosi multipla sono più di 60.000 e nel mondo sono più di un milione. Dopo anni di ricerca un professore di Ferrara, Paolo Zamboni, ha scoperto un collegamento tra la sclerosi multipla e una malattia chiamata CCSVI. Nei malati di CCSVI le vene sono malformate e bloccate in alcuni punti e così il cervello non riesce a ripulirsi. La situazione dei malati potrebbe cambiare con un intervento, ma oggi in Italia diagnosi e cura come Servizio Sanitario Nazionale sono bloccate. Aiutaci a dare voce ai malati di sclerosi multipla e ai loro desideri di una vita normale. Perché il diritto alla salute deve essere un diritto di tutti. Grazie a 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 tutti.